Buongiorno ragazzi, ore 9 e 10, episodio 169, 8 febbraio 2022, sono Giacomo e diventerò un milionario in 6 anni. Oggi ragazzi non so quanti di voi sono aggiornati sull'avvenimento che è successo oggi un anno fa. Non penso tanti, neanche io lo ero, sono che ieri sera per curiosità, come spesso succede, la coincidenza eccetera eccetera, sono andato a vedere quando era successa questa cosa, ho detto cacchio è successa domani e quindi oggi inizio ricordando questo evento che è stata veramente una figata, ma anche ragazzi soprattutto incitando a rifare questo evento. Mi sto riferendo ovviamente ragazzi alla prima delle tre interviste al timido che si è svolta appunto l'8 febbraio 2021 ed è stato veramente un cambiamento veramente interessante nel mio modo di fare podcast, di vedere la vita, le persone, i guadagni anche perché appunto il timido è stato un personaggio, conoscerlo è stato interessante quindi se vuole farsi sentire sappi che appunto sei tempo con la prole e tutto possiamo organizzare un'intervista e ovviamente se qualcuno sul gruppo telegram vuole spingerlo a dire dai timido a non fare il prezioso fatti intervistare da Giacomo, meglio così, lo convinciamo più in fretta. Detto questo ragazzi una piccola riflessione sempre riguardo all'intervista col timido, la cosa bella di quello che sto facendo in queste settimane è che stavo pensando cavoli è bello che l'intervista verrà, non so, adesso butto l'asta settimana o la prossima perché c'è un sacco di carne al fuoco mentre la settimana scorsa ce ne sarebbe stata molta molto molto meno, però poi ho iniziato a pensare, cavoli ma anche la settimana scorsa avrei detto la stessa cosa rispetto alla settimana precedente e anche quella precedente rispetto a quella precedente perché succedono così tante cose giorno dopo giorno, cose inaspettate, cose belle che appunto mi sembra un peccato non aspettare ancora perché accadono tutte sempre di più per parlarne in maniera più diffusa. Questo appunto è una figata perché vuol dire che stanno succedendo molte cose una dietro l'altra e magari sulle prime non me ne rendo conto ma appunto guardandosi indietro che ogni tanto fa comodo per vedere a che punto siamo, mi rendo conto che sono successe un sacco di cose già da fine dicembre, sempre dalla penultima settimana di dicembre ad oggi ragazzi tutta una nuova vita, cosa assurda quanto può cambiare in poche settimane comunque a parte questa riflessione che mi fa molto molto piacere oggi andiamo a vedere quello che avete già visto sul video youtube o che avete già letto sull'articolo del blog. Nel caso non l'aveste letto o visto vi vado a narrare quello che ho fatto ieri ma prima ragazzi sponsorizzata clamorosa ovvero se volete andare su diventanoamiliano.it slash cripto bonus arriverete a una pagina di un corso di criptomonete fatto per tutte le persone e le costano 17 euro che ti aiuta a capire come funzionare le cripto e ti dà anche delle dritte su come fare a prendere tutti i bonus delle piattaforme quindi interessante se volete andare a darci un occhio la pagina è piena di dettagli quindi potete buttarci un occhio io devo ancora acquistarlo appena l'ho acquisto lo faccio lo provo così riesco a scrivere una guida dettagliata sul blog una cosa che ho notato è che l'ho messo anche come banner sul blog però rende molto meno rispetto agli altri banner che ho messo la differenza sostanza è una ovvero negli altri banner mettevo la mia faccia dicevo leggi la mia guida qui e in quello invece dicevo cazzi tuoi vai sul link vai sul sito e compra se vuoi questa per me è una differenza abbastanza interessante cioè vuol dire che finché tu dici la tua della tua opinione fai vedere le persone come si fa le probabilità che le persone ti seguono siano interessate sono molto più elevate mentre quando dici clicca qui vai sul sito che ha scritto tutto cazzi tuoi l'interesse è scema un po no ma è un po giusto così alla fine se tu ci metti più sforzo più lavoro più impegno più tempo viene ripagata questa cosa mentre se dici a bambon la pagina è fatta non serve che ripeta quello che dicano gli altri del corso link o live e andare quello effettivamente tira molto meno quindi questo è anche un consiglio per per voi se se mai aprirete un blog un forte delle affiliazioni offrete le banne pubblicitari e arriverete al mio punto che sto iniziando a mettere la mia faccia un po dappertutto per dare fiducia e di fare appunto iscrivere le guide a parlare voi a costo anche di essere ripetitivi è però se voi dite una cosa ha molto più valore rispetto a leggerla detta da qualcun altro perché perché alla fine le persone che sono sul blog si fidano di voi non di quest'altra persona quindi riflettere perché appunto anche ripetere non ha non è un peccato anzi se detto da voi è una cosa che ha un benefit incredibile a patto di ragazzi a patto di ovviamente non dire stranzate se non è che posso scrivere la guida sul corso se non compro il corso non è che posso dire questo corso allora mi ha fatto ottenere questi risultati se non lo uso no chiaramente posso ripetere un po sulla fiducia quello che c'è scritto sulla sulla home page però poi mi fido ma preferisco metterci le mani di persona e dopo fare una guida quindi questo probabilmente è una delle cose che stanno bloccando un po l'utilizzo di di quel banner però appunto altra piccola riflessione perché secondo me sono cose interessanti che non ci pensa neanche però piccole cose tante piccole considerazioni alla lunga fanno una differenza incredibile perché perché il 0 1 per cento più 0 1 per cento più 0 1 per cento arrivi ad avere un vantaggio incredibile su su tutti gli altri quindi ragazzi un altro consiglio appunto è di guardare anche le piccole cose cercare di capire cosa funziona cosa non funziona cosa si può migliorare eccetera eccetera cosa può volere una persona che arriva sul sito legge tutto tutto conta perché tutto è importante se fatto con compassione con voglia di condividere di e di niente e di portare del bene nel mondo ecco chiudendo alla gandhi quindi diventerò minare.it slash cripto bonus con la y andate e leggete se no aspettate la mia guida detto questo andiamo a veramente iniziare l'episodio ragazzi perché ieri quello che ho fatto ieri è stata una cosa fighissima a parte il video che davide ha sottolineato uno dei video più belli mai fatti da me su youtube ed effettivamente ragazzi mi è piaciuto un sacco farlo vorrei che mi è venuto fuori così a caso è una di quelle cose che mi danno un po fastidio perché perché se una cosa ti esce bene ma ti esce a caso tu non puoi riprodurla no mentre se ci studi è una strategia una scaletta e i video ti escono magari meno bene ma con costanza lei sempre più tranquillo perché dice ok dai ho comunque una strategia posso seguirla sia che io sia ispirato sia che io sia scazzato comunque c'è il contenuto uscirà fuori bene però al momento queste sono le potenzialità che ho quindi ci accontentiamo di fare questo video fatto bene ben curato e poi le immagini di copertina di youtube secondo me mi piace un sacco farle quindi quelle spaccano sempre e basta dai quindi ho fatto questo video qua dove dicevo che in sostanza quello che avevo scritto sulla lavagna vicino alla scrivania era una di quelle cose che vedevo ogni giorno e che cos'era era la lista delle mie spese mensili quanto potevo permettermi di spendere e quanto appunto dovevo guadagnare per arrivare ad avere una vita quasi circa tranquilla no e io ho detto vabbè ci sta così vedo capisco che non posso far stronzate non posso spendere soldi per null'altro che non sia investimenti o asset o cose che mi servono comunque strettamente per la crescita del progetto e lo ritenevo una buona idea se non che ieri cosa è successo? Ieri l'altro guardando appunto il documentario Il Segreto sulla legge dell'attrazione c'era un tipo che a certo punto si scriveva una banconota da 100.000 dollari perché voleva guadagnare 100.000 dollari la pendeva al soffitto la guardava ogni giorno e alla fine gli ha voluto un'idea per guadagnare 100.000 dollari e io ho detto ma cavoli cioè effettivamente anch'io lo scrivo allora sulla lavagna poi mi è venuto in mente quello che ho scritto adesso quello che ho scritto adesso è le mie spese mensili e fatalità ragazzi cos'è successo a fine gennaio che sono riuscito a guadagnare un tot che copre le spese mensili cioè questa cosa veramente mi ha fatto mi ha colpito un sacco perché non so neanche se ve l'ho già detto ieri ma ve lo ripeto perché per me ha veramente un sacco di importanza e appunto mi ha colpito perché cavoli è un obiettivo lo guardi ogni giorno e lo raggiungi in un mese e perché non puntare più in alto chi è che si frena dal dire ok adesso sono arrivato qui adesso vado ancora oltre il problema è che appunto se fai le cose con consapevolezza te le gusti se le fai un po in maniera che non te ne rendi conto perde un po nel sapore come ad esempio appunto guardare ogni giorno le spese mensili e dopo un mese arrivare a rendersi conto di averle coperte no non lo facevo con con cognizione di causa però col seno del poi effettivamente è stata è stato quello che mi ha spinto a raggiungere quel risultato non so se tutte le mie azioni la forza l'attrazione il culo il destino qualsiasi cosa comunque tant'è siamo arrivati ragazzi quindi questa cosa è veramente ottima è un'altra cosa che ho postato anche ieri sello su gruppo telegram mi ha fatto molto ridere che ho tolto gli adsense dalle pagine più visitate del sito quindi ho detto beh adesso mi prendo una battosta incredibile a livello di guadagni difatti i primi due giorni sono andati male ieri l'altro e ieri siamo tornati sopra l'euro perché perché ogni volta che apro l'app mi sento che ci sia almeno un euro ma non è che dico dai spegniamo no proprio ho la visione di questo euro adesso so che qualcuno potrà ascoltare dire che stranzate che sta dicendo giacomo su questa visione allora buoni tutti a visualizzare le cose a farle accadere sì momento perché c'è perché c'è un però ovviamente e appunto comunque ieri sera due due volte di file siamo tornati sopra l'euro adesso devo solo far funzionare le affiliazioni e poi iniziamo veramente a cambiare marcia perché dobbiamo spendere spendere un sacco di tempo investire un sacco di tempo non so perché mi è uscito spendere vuol dire tutt'altro ma ricongiungo due frasi dobbiamo investire un sacco di tempo per cercare di capire come fare a guadagnare quei maledetti benedetti 100 mila euro che in realtà sono 87 con il fatto che adesso ne ho 13 mila via quindi dai ci possiamo ci possiamo arrivare adesso arriviamo invece alle obiezioni perché uno può dire cavoli giacomo se fosse così facile lo farebbero tutti in realtà può essere però io vi dico non ho mai fatto cioè non è che mi mettevo là o meglio quando l'ho fatto si è sempre avverrato quindi questa cosa va assolutamente a vantaggio del funzionamento della legge dell'attrazione quando non mi sono messo in testa una cosa non ci credevo non la visualizzavo perché partivo già un po' spento un po' non convinto di quello ecco e quello ovviamente non si era mai visualizzato o meglio se si visualizzava per puro caso se lo raggiungevo non me lo godevo così tanto perché chiaramente se una cosa la vedi tutti i giorni arriva e tu la dici che figata finalmente ce l'ho qui me la sono sognata tanto mentre se tu la vuoi non la vuoi poi arriva magari ti rompe anche i coglioni a doverla apprezzare a dover star là e quello un po' diventa fastidioso comunque vedremo quello che accadrà entro fine giugno con la legge dell'attrazione in funzione vediamo cosa ci porta che risultati ci porta e perché perché sono veramente molto curioso quando funzionerà perché ormai ragazzi dobbiamo parlare in maniera ottimista no quando raggiungerò i 100k sarà veramente bello tornare indietro riguardare i video dire cavoli è bastato veramente così poco però per certi versi è difficile immaginarsi immaginarsi soddisfatti facendo un esempio sulla salute perché il documentario parla anche di salute parlava di uno che era paralizzato dopo un incidente con la legge dell'attrazione con la convinzione col corpo che si autoguarisce eccetera eccetera è riuscito tempo a pochi mesi a guarire del tutto e uscire sulle sue gambe no e detto vabbè questa è assolutamente una stronzata perché se fosse così facile io mi farei passare l'allergia cioè mi metterei là e direi anzi mi sarebbe già passata da un sacco di anni se effettivamente fosse quello che vogliono poi mi sono chiesto ma giaco ma tu l'hai mai chiesta questa cosa ti sei mai visualizzato senza senza allergia che stai bene a respirare in un prato primavera effettivamente no non l'ho mai fatto e onestamente anche sapendo che la cosa funziona non so se mai lo farò proprio in maniera onesta perché perché non non sono per quanto uno possa possa sapere stupido visualizzare passare il tempo a guardare comunque richiede tempo richiede energia e per quanto mi dia fastidio l'allergia ragazzi è una cosa che non mi prende sembra stupido di sicuro lo è però o fatemi sapere se anche voi magari la pensate così su dei vostri problemi fisici che non avete voglia di guarire perché magari non c'è una spiegazione magari vi siete abituati così e dite questa è la mia vita è scolpita in me e avanti così mentre tutt'altro paio di mani che ovviamente sarebbe se fossi appunto anche io paralizzato sul letto d'ospedale senza possibilità di muovere neanche un dito perché perché lì allora lì sì che non hai alternative al pensare mettete a concentrare il problema è non abbattersi ma una volta che hai fatto quello non è che hai tanto altro da fare cioè non hai scelta un'alternativa ti metti là con tutto te stesso a visualizzare il percorso di guarigione però per quanto mi riguarda ok mi dà fastidio ma da qua a mettermi a pensare di non averla anche se non dico un azzardo ma anche se mi dicessero che ho la certezza che mi passi non lo so se lo farei ragazzi perché comunque richiede un botto di energia e al momento perché adesso le mie energie sono tutte concentrate su questo su questo percorso sul 100 mila euro però appunto pensateci cioè quando uno dice una stranzata se ok ma tu lo faresti perché io vi dico io non lo farei per l'allergia che comunque è una cosa che mi debilita veramente tantissimo già da sti giorni quindi quindi però appunto ognuno sceglie le sue priorità ognuno sceglie cosa è più importante per lui cosa vuole fare cosa non vuole fare ed è anche importante capire che se è una cosa che puoi fare non ha detto che tu debba farlo che tu voglia farla perché se hai la possibilità va bene ma se non c'è i cazzi cioè perché costringersi perché buttarsi solo perché te lo dicono gli altri o perché i tuoi ti consigliano che forse sarebbe meglio però tu non c'è i cazzi non c'è i cazzi non ho cazzi di mettermi là per l'allergia va bene ma anche se mia moglie si dico guarda che poi se guarisci andiamo facciamo andare a farci i picnics ok benissimo però se non mi convinco nel profondo e niente è così con rispetto per tutti e non vuol dire non non dare importanza alle altre persone però una cosa o la vuoi fare o non la vuoi fare per quanto importante sia per le altre persone se non è importante per te o alla fine la vita la tua quindi è giustissimo che tu scelga le tue le tue azioni e le tue e i tuoi obiettivi usando solo ed esclusivamente la tua testa ovviamente in una vita le cose possono cambiare quindi le tue consapevolezze possono mutare andare tornare eccetera eccetera però quello che deve rimanere il fatto che non bisogna far piacere a nessun altro questo fosse una delle cose che che la legge dell'attrazione fa non fa funzionare quando tu lo fai ma lo fai perché qualcun altro diretto che dovresti farlo no lo fai se vuoi farlo se non vuoi farlo morta lì ti considerai a qualcos'altro se non vuoi fare qualcos'altro basta a posto voi magari mi vedete così di a che figata giacomo super concentrato super sul pezzo però in realtà fino a 26 27 anni era un cazzone cioè non è che lavoravo spendevi i soldi in aperitivo andavo a giocare a calcetto facevo le vacanze con gli amici eccetera eccetera non è che sì non è che sia stato un percorso di crescita dai 16 anni ho sempre desiderato di diventare no era qualcosa che avevo dentro che esploso qualche anno fa basta non è che per cui se vi sentite di non avete voglia di fare una cosa siete sbagliati non diventerete mai ricchi o felici ma magari adesso no però fra una settimana un anno o dieci anni vi succederà la cosa giusta al momento giusto e cambierete mentalità o magari no però appunto partire già scoglionati verso se stessi perché qualcun altro ci ha detto che siamo sbagliati vaffanculo vaffanculo e vaffanculo e dopo questa serie di precazioni ragazzi è ora di dirlo andiamo a prenderci questi 100 mila euro oggi ho l'obiettivo di buttarla un progetto al volo on the go buttato la come diciamo noi in informatica mi sembra si dica adesso non vorrei sbagliare il termine tecnico a cazzo di cane per per far sì che guadagniamo questi 100 mila euro a botta quindi in un colpo solo però ovviamente farò anche delle altre strategie per per raggiungere quella cifra là adesso vado ragazzi sono giacomo diventerò milanare in sei anni ci sentiamo domani e vai con la legge dell'attrazione ragazzi attraiamo attraiamo se vogliamo farlo ciao ciao a tra l'altro un'altra cosa interessante è che tutti i numeri stanno crescendo tranne uno ed è quello che smetto di ho smesso di guardare che in realtà non mi interessa più ma che qua in questo momento vi dico che se volete potete migliorarlo ovvero il numero delle recensioni su del podcast perché perché si può fare è gratis è libero aiuta a tutti aiuta la crescita del podcast eccetera eccetera perché non farlo ragazzi quindi se volete considerare questa cosa fatela andate la lasciate un una votazione vi lascio anche linkato l'articolo su come fare per votare in qualsiasi piattaforma e dai non ci sono scuse però appunto mi fa ridere come questa cosa si afferma a 14 voti da luglio dell'anno scorso effettivamente è un numero che non mi interessa che non visualizzo quindi boh appunto tutto si riconduce sempre a a quanto pare a legge dell'attrazione ma lo scopriremo andando avanti ragazzi buona giornata ciao